Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su Lele King TV quest'oggi faccio vedere il mio album di FIFA 365 e facciamo il punto sulla situazione di questa collezione perché l'abbiamo ripresa dopo un po' di tempo siamo rimasti un po' indietro, dico la verità però adesso andiamo a controllare il nostro album come vedete la prima pagina l'ho terminata tutta ho tutte e tre le figurine relative alla prima pagina gli scudetti abbiamo soltanto quello dell'Atletico del Paris Saint Germain, del Bayern Monaco, dello Schalke 04 dell'Inter, della Juventus, del Porto, dello Spartak Muscat del Boca Junior e Bassa le maglie abbiamo la maglia del Paris Saint Germain del Napoli, PSV Hendoven, Valencia, Inter, Porto Manchester City e Club America questa è la prima pagina, la prima squadra che incontriamo su questo album è il Manchester City e come potete vedere nel Manchester City me ne mancano nove figurine per terminarlo Atletico di Madrid qui ne mancano otto quindi meno del Manchester City per terminare questa pagina di questa squadra il Barcellona me ne mancano otto anche del Barcellona del Real Madrid qui ne mancano molte di più perché ne mancano dieci Real Madrid sto messo veramente male con la collezione del Real Madrid ragazzi veramente veramente male poi giriamo pagina il Valencia allora del Valencia mancano la bellezza di nove figurine qui nel Valencia poi c'è anche Condombia ex Inter non felice la sua esperienza a Milano Monaco cosa vogliamo dire della pagina del Monaco anche qui mancano dieci figurine sono veramente tantissime qui nel Monaco c'è Barreca giocatore italiano poi c'è Subasic c'è Golovin c'è Jovedic e c'è Pelligri altro giocatore italiano Paris Saint Germain qui alziamo le mani ragazzi perché qui ci mancano tredici figurine è una cosa assurda ci mancano tredici figurine però abbiamo Tiago Silva che è figurina dorata e Neymar idem figurina dorata quindi già un pochettino ci possiamo rifare sotto questo punto di vista ma è un diciamo un accontentarci per non metterci a piangere del Bayern Monaco invece ci mancano cinque figurine qui stiamo messi molto molto meglio abbiamo Müller abbiamo Lewandowski abbiamo Robben insomma abbiamo molti giocatori importanti forse tutti i giocatori più importanti del Bayern Monaco e ci mancano soltanto cinque figurine forse una delle squadre che con la collezione sono messo meglio il Borussia Dortmund qui ce ne mancano dieci quindi qui non stiamo messi per niente bene qui c'è Reus Schalke 04 anche qui mancano 11 figurine ragazzi lo Schalke 04 in cui c'è Naldo e dell'Inter che vuoi dire qua dell'Inter ne manca addirittura 11 abbiamo però i Cardi in Angolan Doradi Candreva Verisic Miranda però mancano comunque sia 11 figurine per finire questa pagina della Juventus stiamo messi leggermente dico leggermente meglio perché ne mancano nove abbiamo Di Bala Dorado abbiamo Cristiano Ronaldo quindi i pezzi da 90 ce l'abbiamo poi c'è Pjanic c'è Chetira c'è Daglas Costa Manzukic e Alex Sandro il Napoli stiamo messi malissimo con il Napoli con il Napoli ci mancano ci mancano 11 figurine abbiamo però Kulibali Albiol Alan Nzielski e Nsigne Dorato andiamo avanti siamo arrivati a metà album potete vedere il PSV Endoven abbiamo soltanto 5 figurine del Porto ce ne mancano 10 quindi diciamo stiamo in media c'è Marega c'è Braimi c'è Herrera che è figurina dorata c'è Opetro e Diogo e Leite Spartak Mosca ce ne mancano 12 e sono tantissime 12 figurine Boca Junior ne mancano 11 qui nel Boca possiamo vedere Pavon possiamo vedere Tevez e Zarate che sono due giocatori che hanno giocato in Italia Tevez ha giocato nella Juventus e Zarate ha giocato nella Lazio e nell'Inter Corinzia qui ne abbiamo 11 mancanti Gremio ancora peggio il Gremio peggio mi sento 12 ce ne mancano finì il Gremio Hal ce ne mancano 11 squadra egiziana Club America ce ne abbiamo 7 ma ce ne mancano 9 per finire questa squadra i Tigres ce ne mancano 8 per finire la squadra qui c'è Valencia che è dorato c'è Sosa c'è Giunigno che è uguale figurina dorata e poi c'è la parte relativa al Mondiale di Russia 2018 in cui ci sono tutte le squadre che hanno partecipato divise per gironi abbiamo l'Egitto e l'Uruguay abbiamo l'Argentina e l'Islanda abbiamo la Germania e il Messico poi c'è la parte finale diciamo e c'è la vittoria della Russia contro l'Arabia Saudita per 5 a 0 poi c'è la Francia che batte l'Australia 2 a 1 qui c'è la finale Francia contro Croazia con i festeggiamenti poi della squadra francese qui c'è la Croazia e il Belgio e qui c'è tutta la formazione della squadra campione del mondo tra cui c'è Giroud Manpè e Dembélé che ce l'ho già attaccata e che l'ho trovata poi qui c'è la top 10 delle squadre di calcio femminile ci sono gli Stati Uniti e la Germania che sono relativamente al primo e al secondo posto e poi c'è la Coppa del Mondo Under 20 femminile abbiamo la terza e la quarta classificate sono Inghilterra e Francia qui c'è penso sia un'altra un'altra Coppa del Mondo giovanile in cui abbiamo una figurina e poi c'è la parte finale che è questa qui in cui c'è anche Maradona c'è il figlio di Guia con la Maglia Paris Saint Germain e altri giocatori ragazzi io vi saluto per questo video è tutto ci vediamo nel prossimo video mi raccomando non perdetevelo ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti